Bentornati nell'orto in telechia. Oggi vediamo come intrecciare i bulbi utilizzando il sistema con il filo. Per l'occasione scegliamo le cipolle di alife, ma la stessa tecnica si può usare con lo scalogno e con l'aglio quando hai il gambo abbastanza morbido. Per iniziare la treccia partiamo dal fondo del filo che come possiamo vedere termina con una curvatura tale da determinare un'asola. Ed è proprio in quest'asola che inseriamo la gamblera secca della cipolla e la facciamo passare attorno ad entrambi i fili avvolgendoli da dietro per poi farla rientrare dal davanti nella stessa asola determinando così l'equivalente di quello che nei nodi marinai è detto un nodo piano. Ma rivediamolo più da vicino. La gamblera entra nell'asola, gira attorno passando da dietro e riprende la stessa asola uscendo. Poi delicatamente mettiamo in tiro il nodo piano. A questo punto si può continuare intrecciando in due modi e il primo che vediamo porta a un risultato più solido ed è più adatto soprattutto a quando i bulbi hanno una gamblera corta. Inseriamo quindi nuovamente la gamblera nell'asola e le facciamo compiere un paio di giri attorno ad entrambi i fili per poi riprenderla dalla stessa asola facendola uscire. Ma rivediamolo più da vicino. La gamblera entra nell'asola, gira attorno a entrambi i fili un paio di volte e poi esce dall'asola. L'altra variante invece è adatta alle cipolle con la gamblera lunga ed è un po' meno solida. Semplicemente avvolgiamo un paio di volte la gamblera attorno ai fili senza farla passare mai dall'asola e la posizioniamo assieme alle altre cipolle in modo da riempire lo spazio vuoto più vicino. La geometria dell'intreccio prosegue disponendo una cipolla davanti all'altra lungo l'asse nord-sud e poi altre due cipolle una davanti all'altra lungo l'asse est-ovest. Così facendo la treccia assume una linearità tendenzialmente regolare e vagamente elicoidale. Dopo aver posizionato la cipolla se si fa passare la gamblera in mezzo alle altre cipolle sottostanti si dà una maggiore solidità all'intreccio. Al termine del lavoro un attimo di contemplazione è quasi doveroso e ci teniamo a ricordare che con l'intreccio come con quasi tutto nella vita è questione di pratica quindi vi auguriamo una gioiosa e felice pratica. Per ora è tutto grazie e a presto.